Vedi che ti è arrivato questo messaggio a cellulare? Hai sentito ora? Che senti? Sì, ho sentito bello. Ho sentito bello. Ho comprato. Sì, vabbè, tanto questo gira. Voi lo montoni tu. Apri. Clicca, clicca. Devi girare, guarda, devi leggere. Gira che non avete il schermo interno. Eh, fai 50 anni di attività! Noi ci arriviamo prima, ci arriviamo. L'abbiamo fatto fino alla fine, l'abbiamo fatto. Grazie, grazie. Invita tutti i tuoi amici, i tuoi clienti. Invita tutti a partecipare alla festa del 20 dicembre alle 19.30 in via Centallo 11. Invita tutti i tuoi amici, quelli di via Genè. Sì, quella via lì era corta ma era popolosa, era popolosa. Vi aspetto, vi aspettiamo tutti, eh! Si beve e si mangia! Grazie. 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 Grazie.